Liu, quanta casina questo Sanremo. Ma veramente Sanremo? Voi credete nella legalità, nell'onestà di Sanremo? Sanremo sono anni che è corrotto e già si sapeva chi è da venire. Sto leggendo polemiche, io, Giollier, Bertè, qui là. Liu, Sanremo è un programma che ormai ha perso di credibilità da anni. A me la cosa che mi fa girare le palle di Sanremo è un problema. Mi hanno spostato a Juventus all'uno di questo Sanremo da merda e io c'ho il turno di pomeriggio, capisci? Io vado a metterci in modo da partire. Quello è il problema. Sanremo, prima che comincia Sanremo, già sanno chi ha vinto, già lo sanno qui. E io non so qui, che hanno buttato, chi ha buttato, la roccia, lì, che andrà a buttare. Già lo sanno chi ha vinto. Il vero problema è che hanno spostato a Juventus all'unità, quindi molti lo sanno qui. Ciao.